All'interno del progetto di Friuli Features Forum si parla anche della cucina del futuro che in effetti molto volte scopriamo che sia la cucina della tradizione. Proprio in questi giorni partiranno delle clip dove racconteremo i prodotti di stagione, quindi stagione per stagione, partendo dalle erbe, partendo dagli asparagi, illustrando delle ricette, raccontando delle ricette, consigliandovi anche dove dovete andare a comprare, dei piccoli design del gusto dispersi sul nostro meraviglioso territorio.